Il modo migliore del presentare tutti coloro che hanno collaborato e concluderanno questa giornata di oggi partiamo dalle due bagniere con le importanti dell'NPH Lazio presentata da Pesoli Stella e NPH Italia Boccacci Daniana l'America che rappresenta le discipline che andiamo a concorrere in queste giornate nonché quella del bolle, quella del bar e vado a chiamare la regina Francesco Carlo Alessandro, Cavalero Fernanda, Di Peo Federica, Midi Vigino, Cianfarani Giovanni, Arena Roberto Bozzetti Depora, Anzalone Luca, Sofia Giampiero, Cipri Danilo, Sini Scalpi Salvatore, Fanno Mauro, Ferrario Gianluigi Manguso Cesare Maria, Boccacci Daniana, Palmieri Antonio, Arena Debora, Mastroianni Giovanni, Marino Giuseppe Quinto Guido, Guttarazzi Daniele, Morabito Anthony, Sanfarani Marco, Ilario Daniele, Baccariello Antonio De Filippis Luca, Sannetta Antonino, De Filippis Carlo, Guggi Gianluca, Bonpane Marta, Gianni Marco, Garofalo Ferdinando Gli affratti Davide, Spinello Antonino, Mastro Pietro Stefano, Mastroianni Giovanni, Sofia Giampiero, Tioli Mauro un ringraziamento in particolare anche a lui, segretario nazionale dell'NPH Italy nonché giudice nazionale, un doppio applauso anche per lui a ferito un naso e si conclude con lui questa lunga storia un ringraziamento speciale ai tuoi fratelli Alessandro e Roberto Figano che sono ospitato nel loro centro un ringraziamento speciale 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 un ringraziamento speciale